Predisposto il piano di mobilità per il 14 marzo, giorno in cui riaprirà al culto dei fedeli, il santuario di San Francesco, distrutto dal terremoto del 1980. La città e la comunità francescana fremono in attesa della fatidica data. Attesi migliaia di pellegrini, così il Comune ha approvato il piano di mobilità speciale perché la città non rimanga imbottigliata nel traffico. I bus di linea provenienti da nord parcheggeranno presso l'area mercatale, da dove navette della Metellia Servizi e del CSTP accompagneranno i fedeli a Piazza San Francesco. I bus di linea provenienti da sud, invece, parcheggeranno nel primo tratto del sottovia veicolare, che per l'occasione sarà aperto. Per consentire lo svolgimento delle manifestazioni religiose, chiuso alla sosta il parcheggio di Piazza San Francesco e per consentirne una migliore fruizione, i frati francescani lo divideranno in settori, in cui verranno ospitate famiglie, associazioni e case di riposo. Previsto anche l'impiego dei volontari del Gruppo della Protezione Civile di Cava e un servizio straordinario per gli agenti del Comando di Polizia Locale.